nella serie beck ed degli ombretti for makeup ancora più alta pigmentazione oltre il crème caramel andiamo ad applicarlo esattamente sotto le sopracciglia si miscelerà all out full in questa maniera un altro tipo di illuminante che è il numero 4 il fard art che serve solo a creare un po di luce prima del posizionamento del blush nella zona perioculare lo andiamo a riposizionare sia il centro della clavella dorso del naso abbiamo fatto prima lips e parte di sotto